Musica Benvenuti, oggi Made in Romagna vi porta in un luogo simbolo non solo della cultura romagnola ma anche legato alla figura di Pascoli, Villa Torlonia. La Torlonia è un luogo appunto anche molto affascinante con delle bellissime stanze ma qual è appunto la storia di questo luogo? Allora questo è un luogo che ha una storia lunghissima che parte dall'età romana quindi è un sito veramente molto complesso e un luogo strategico quindi fin dall'antichità. Noi proprio qui al Museo Multimediale abbiamo cercato anche di descrivere, raccontare questa storia nelle varie fasi, nella sua evoluzione. E' molto legata ovviamente all'omicidio di Ruggero Pascoli perché lui lavorava qui come amministratore per conto del principe Torlonia il quale principe nel momento in cui Ruggero era l'amministratore di Rado si recava qui a San Mauro e inspiegabilmente proprio dopo l'omicidio invece abbiamo documentato la sua presenza molte volte nell'estate. Proprio dove siamo adesso erano le stanze proprio del principe e della moglie e sappiamo che soggiornava appunto anche per tutta l'estate, per i tre mesi estivi anche con i bambini, con i figli. Villa Torlonia però era anche un luogo di attività economica, ha avuto anche diverse funzioni, parliamone. Sì, sin dal periodo in cui era di proprietà del Torlonia e che poi è stata proprietà del principe fino anche agli anni 50 del nostro sede del 1900 ma soprattutto ai primi del 900 con Leopoldo Tosi questa tenuta ha rivesto un ruolo fondamentale perché è proprio una tenuta all'avanguardia in moltissimi settori le attività sono molteplici dalla coltivazione anche del tabacco, della canapa a livello di enologia quindi anche di viticoltura. Tosi è colui che prima l'amministra come amministratore per il principe ma poi diventa vero e proprio affittuario e quindi la porta anche a prendere premi internazionali anche all'estero. Questo è un luogo che comunque ha sempre vita in cui vengono anche svolti dei celebrati dei matrimoni che attività vengono svolte all'interno? Sì, vengono svolte molteplici attività soprattutto dopo questa inaugurazione del Parco Poesia Pascoli e queste nuove ristrutturazioni. C'è un nuovo teatro che quindi è disponibile per degli spettacoli, anche per convegni poi abbiamo numerose sale, anche una sala mostra molto grande gli spazi sono enormi e con tante possibilità qui vengono fatti degli spettacoli nella corte interna in estate e convegni anche nella sala archi ma anche all'esterno e quindi anche i matrimoni appunto. Un altro appunto dei luoghi legati alla memoria di Pascole è Villa Torlonia a Villa Torlonia pochi mesi fa è stato inaugurato un museo multimediale appunto dedicato al Pascoli ma che cos'è questo museo multimediale? Allora è un museo immersivo, è un percorso multimediale immersivo nella poesia pascoliana quindi è un vero e proprio tuffo nella sua poesia che è una poesia prettamente sensoriale e quindi noi abbiamo cercato di fare emozionare il visitatore farlo suggestionare proprio catapultandolo dentro alla poesia del Pascoli quindi con proiezioni, suoni della natura, luci e quindi è molto suggestivo e è quello che mancava un po' a casa Pascoli il parco poesia Pascoli idealmente unisce questi due luoghi che sono i due luoghi del cuore del poeta perché poi a Villa Torlonia lavorava il padre Ruggero Pascoli che è poi stato ucciso e quindi sono i due luoghi della memoria pascoliana e noi abbiamo cercato di unirli idealmente in questo percorso qui vive ancora di più la poesia con questo nuovo museo inaugurato da poco che appunto poesie troviamo e anche attraverso quali grandi artisti è stato realizzato perché abbiamo anche una voce eccellente Sì, allora, le poesie sono una selezione delle più note tra cui la cavalla storna che ormai ha catapultato i nostri luoghi nell'immaginario di tutti e poi poesie che sono sensoriali come appunto il percorso della natura come Novembre o Lassiolo o La mia sera e poesie anche che riguardano invece il rapporto dell'uomo con l'universo Poesie meno note come La Vertigine che è resa in una maniera secondo me eccellente e Dieci Agosto che invece è molto nota Il Bolide, per citarne solo alcune La voce principale è quella di Luca Ward che quindi è uno dei massimi doppiatori in Italia così come La Voce Femminile è altrettanto nota di Emanuela Rossi anche lei è una doppiatrice famosissima italiana e devo dire che le suggestioni insomma sono molto forti Da dove è venuta appunto l'idea di creare questo museo multimediale? Come dicevo prima, grazie ad un finanziamento anche europeo e dell'Argione c'è stata questa possibilità e da parte con la volontà dell'amministrazione comunale ma come dicevo appunto mancava un po' la poesia del Pascoli perché noi come attività il Comune ha sempre fatto tante iniziative con degli attori celebri anche l'Accademia Pascoliana e quindi di poesia al pubblico, di recitazione, di interpretazione ma portare la poesia in un luogo fisso diciamo dove il visitatore da vicino o da lontano può comunque gustare, assaporarla è appieno, è un'esperienza unica, credo sia unica in Italia proprio un museo multimediale di questo tipo Abbiamo detto che Villa Torlonia è legata appunto alla memoria di Pascoli proprio anche per l'uccisione del padre Questo luogo è un simbolo appunto di quell'omicidio che ha destato sempre anche molto interesse e curiosità Come andò? Allora, sull'omicidio Pascoli ci sono molte novità che noi come museo abbiamo cercato di indagare proprio negli archivi E' chiaro che si può sempre trovare qualcosa di nuovo perché è ancora un mistero irrisolto Le prove di questo omicidio non sono mai state trovate ma abbiamo notevoli indizi che portano a sospettare una sorta di complotto, di congiura contro Ruggero Pascoli che era una figura di grande potere e molto invidiato quindi che si era fatto numerosi nemici perché aveva una tempra anche abbastanza forte e più persone sicuramente all'interno del suo stesso entourage hanno congiurato contro di lui Il principale sospettato che è quello poi additato dalla stessa famiglia Pascoli come complice sicuramente se non mandante del delitto è Pietro Cacciaguerra che era un signorotto di Savignano che diventa agente dei Torlonia all'indomani del delitto ma sicuramente ci può essere la connivenza dello stesso principe Torlonia il quale non aveva fatto nulla per trovare il responsabile magari mettendosi alla testa delle indagini visto che era l'uomo più importante più potente d'Italia in quel periodo anzi le indagini sono state sviate sono state fatte in modo molto superficiale addirittura potrebbe essere complice Achille Petri che è il funzionario del Torlonia che diventò amministratore al posto di Pascoli quindi una serie di personaggi che sicuramente erano responsabili di questo delitto La Cavallina Storna raccontò una poesia al Pascoli che tornò appunto a Villa Torlonia nel suo immaginario in realtà non è così raccontiamo appunto questa suggestione Sì, Ruggero Pascoli viene ucciso tra Savignano e Longiano in località Gualdo sull'odierna Via Emilia che allora non era ovviamente una strada di questo tipo era una strada battuta e due uomini da dietro acquattati in un fosso sparano un colpo di fucile il cavallo, la Cavallina Storna che era la sua fedele cavallina che lui sempre portava con sé fa da sola la strada correndo fino ad arrivare all'imbocco del comune di Savignano dove viene avvistato il corpo e il cavallo viene poi portato cioè il corpo viene portato all'ospedale di Savignano e la cavallina poi da sola ricondotta qui a Villa Torlonia e quindi è chiaro che poi nella poesia di Pascoli il poeta immagina la cavalla che ritorna proprio nel viale alberato con i pioppi di riosalto qui alla torre ma appunto era andata diversamente ovviamente questa era la sua visione per rendere ancora al meglio il dramma di quell'evento Il rapporto appunto che Pascoli aveva anche con questo omicidio visto che lui era molto piccolo quando avvenne È un rapporto continuato tutta la vita lui aveva una grandissima rabbia per questo delitto per questa ingiustizia anche perché appunto non fu punito rimase insoluto la gente non parlò quindi ci fu una diffusa omertà anche perché pare fosse riconducibile alla setta dei repubblicani che basavano questi loro assassini anche sulla omertà e poi ci potevano essere delle ritorsioni molto pericolose per chi parlava quindi Pascoli non accusò direttamente ovviamente né i savignanesi né i suoi concittadini per questo omertà perché probabilmente aveva capito come funzionava e diverso fu il rapporto invece che ebbe Maria, la sorella che rimase orfana due anni e quindi lei invece aveva chiuso diciamo i rapporti proprio con San Mauro mentre per Pascoli il rapporto era molto diverso perché lui fino a 12 anni comunque aveva vissuto l'infanzia qua ed è stato l'unico periodo felice spensierato della sua vita in più gli affetti familiari tutto il suo rapporto con i genitori molto bello che aveva avuto qua però ecco non si rassegnò mai a questa cosa e anzi continuò le sue ricerche da solo tant'è vero che noi quando abbiamo iniziato gli studi per questa pubblicazione poi che è stata edita qualche anno fa sull'omicidio Pascoli siamo partiti proprio dalle ricerche dello stesso poeta che aveva fatto nel 1877 lui da giovane non si era reso chiaramente al momento era solo un bambino al momento dell'omicidio aveva 12 anni ma poi insieme ai fratelli si interessa della cosa e pare fosse arrivato proprio vicino alla verità ecco che da quelle ricerche noi stessi siamo partiti per arrivare diciamo a questa conclusione grazie a tutti grazie a tutti